Sono Giovanni Casarotto, medico veterinario, insieme a mio fratello Riccardo conduciamo un'azienda agricola a Trecenta in provincia di Ovigo, si chiama Società Agricola Valentina, ci occupiamo di allevamento di vacche da latte, abbiamo circa un centinaio di vacche mungitura e lavoriamo una novantina di ettari, sui quali facciamo pressa poco tutte le lavorazioni tranne la raccolta. Le colture principali che facciamo sono cereali autunno-vernini, ozzo e frumento, foraggero in particolare, poi facciamo medica, per la quali siamo autosufficienti, coltiviamo soia e mais, mais da insilato o da pastone. La nostra stalla si è trascritta qui da Vicenza circa 20 anni fa e la nostra collaborazione con TecnoZo inizia circa 15 anni fa. Attualmente sono seguito dall'agente di zona Nicola Roschiavo e dal medico veterinario che mi assiste come tecnico Francesco Mantovani, che ho trovato molto preparato per quanto riguarda il discorso robot di mungitura. Attualmente TecnoZo ci rifornisce tutta l'integrazione, sia per quanto riguarda le vacche in lattazione, sia per quanto riguarda le manze da crescimento e le asciutte. Uno dei prodotti che ho iniziato a usare fin dall'inizio è stato l'Agecon 4, soprattutto nel periodo estivo, perché mi garantiva una certa sicurezza per quanto riguarda le fermentazioni sia in mangiatoia sia a livello di benessere degli animali stessi. Uso tuttora un'integrazione TecnoZo sulle vacche da latte, sulle manze e sulle asciutte. Produciamo tra i 12 e 13 mila quintali di latte all'anno che consegniamo a una commerciale qui della zona che poi lo rivende a vari casi edifici sparsi in tutta Italia. Nell'ottica di semplificare la gestione aziendale ho iniziato ad apprezzare anche altri prodotti di TecnoZo, quali le sementi, di cui ho sempre riscontrato un'altra qualità. In particolare uso il Ludwig, frumento foraggero, usiamo anche altri prodotti TecnoZo quali imballaggi, teli per insilati, rete per otopressa e film per fasciatore. Fin dall'inizio ho riscontrato che l'utilizzo di prodotti TecnoZo mi consentiva di ottimizzare, integrare e gestire al meglio i prodotti aziendali di cui disponevo. Ritengo che con l'aiuto dell'assistenza tecnica TecnoZo e l'utilizzo dei loro prodotti vi siano le premesse per una futura espansione e per uno sguardo positivo al futuro. Mi chiamo Francesco Mantovani, siamo a Trecenta nella società agricola Valentina. Mi occupo del servizio tecnico insieme a Nicolò Schiavo, agente di zone di TecnoZo. In questa azienda la nostra collaborazione è iniziata soprattutto per valorizzare le autoproduzioni aziendali e per valorizzarle quindi al massimo. La nostra collaborazione per quanto riguarda i prodotti vanno diciamo a 360 gradi da quello che sono integratore minerale vitaminico per l'allattazione, integratore per asciutta gruppo unico, mangime complementare liquido per robot appositamente studiato, comparto sementi, prodotti sanitizzanti. Per l'allattazione in particolare utilizziamo l'Adisal 500, per l'asciutta gruppo unico utilizziamo il Cowgest 200, tutti i prodotti che comunque apportano e soddisfano completamente i fabbisogni delle bovine in ognuna delle loro fasi. Per quanto riguarda il mangime liquido da robot utilizziamo il Synergy Glucoplus, per le sementi utilizziamo Ludwig da tanti anni. L'obiettivo futuro di TecnoZo è quello di continuare la collaborazione con la società agricola Valentina, di portare un miglioramento produttivo e riproduttivo sulle bovine e quello di vedere e supportare l'ampliamento aziendale sia numerico che produttivo e supportare quindi i sogni della società agricola.